Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Ci aspettano delle giornate all'insegna della variabilità e dell'aria molto fresca proveniente dai quadranti orientali. Questa notte avremo qualche piovigine sul nostro territorio. Questo a causa, vedete, di una circolazione depressionaria che si formerà proprio sul Mediterraneo meridionale che farà fluire dell'aria fresca, quindi con delle correnti fresche, che andranno a impattare sulle nostre orobie bergamasche provocando della nuvolosità a tratti regolare, qualche locale piovigine, ripeto, questa notte le prime ore di domani mattina e qualche fiocco di neve oltre i mille metri di altitudine. Sarà un temporaneo peggioramento del tempo perché poi nel corso della giornata di domenica avremo un graduale miglioramento del tempo. Ma come andrà se diamo uno sguardo durante la settimana in Valle Seriana e sul nord Italia? Ecco, questa è una bella mappa che ci fa vedere quali sono le precipitazioni nevose che interesseranno il nostro territorio fra martedì e mercoledì. Una perturbazione a carattere freddo proveniente, pensate direttamente dalla Siberia, affluirà dalla porta della Bora e farà ingresso sul nostro territorio. Ecco, la probabilità è ancora media che si possa verificare, quindi intorno al 70-80% di probabilità. Ma se ciò dovesse avvenire, vedete come le nevicate interesseranno gran parte del nostro territorio, pensate fino a quote collinari, intorno ai 5-600 metri di altitudine, quindi potrà ritornare la neve anche a Clusone nella giornata di mercoledì, a causa proprio di questo nocciolo di aria fredda che porterà poi delle nevicate copiose, vedete questo colore blu indica nevicate copiose sul Piemonte, mentre da noi avremo nevicate comprese fra i 15 e i 20 centimetri di neve, intorno agli 800-1000 metri di altitudine. Ma serviranno sicuramente conferme e vi aspetto proprio qui sempre con gli appuntamenti meteo di Antenna 2 per vedere se ci sarà questo possibile peggioramento del tempo. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione per la giornata di domani, che viene una giornata all'insegna della variabilità, con al mattino nubi talora compatte sul nostro territorio, con le ultime locali precipitazioni nevose oltre gli 800-1000 metri, poi nel corso della tarda mattinata si affacciano ampie schiarite sul nostro territorio e resterà un tempo con cielo irregolarmente nuvoloso, ampie schiarite a partire soprattutto dalla medio-bassa valesseriana e lago di Seo, che si propagheranno fino alle nostre montagne nel corso della giornata. Sarà una giornata piuttosto fresca, con zero termico intorno ai 1500-1600 metri di altitudine e in montagna si faranno sentire venti freschi dai quadranti orientali. Evoluzione per la settimana. Lunedì abbiamo indicato un cielo variabile, ancora degli annuvolamenti sul nostro territorio, un clima abbastanza fresco, con minima acclusione, comprese fra 1 e 9 gradi, zero termico a 1900 metri di altitudine. Martedì abbiamo indicato che dovrebbe peggiorare il tempo. Vi avevo già accennato in precedenza che un nocciolo di aria fredda dovrebbe proprio spostarsi in direzione del nord Italia, portando nel corso della giornata di martedì le prime avvisaglie di un peggioramento con cieli regolarmente nuvolosi, ma vedete proprio nella giornata di mercoledì arriverà quest'aria fredda con possibili spruzzate di neve fino a quote medio-basse, quindi anche acclusione potrebbe nella giornata di mercoledì tornare la neve. Vedete le temperature comprese fra meno 3 gradi e 3 gradi, quindi una giornata proprio invernale, quella di mercoledì, poi giovedì gradualmente il tempo migliorerà, ma seguiterà a far freddo, vedete, con minima acclusione intorno ai meno 3-4 gradi, quindi in un clima davvero, in un contesto invernale, con le nevicate che però cesseranno sul nostro territorio. Venerdì è previsto bel tempo, finalmente il tempo volge nuovamente al bello con un tempo tipicamente primaverile, uno zero termico in risalita a 2.000 metri, in attesa del prossimo fine settimana che dovrebbe essere in compagnia del sole e di un clima decisamente più umite. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.